GF VIP, Luca Onestini e la rivelazione su Ivana che sperare ai fan, è stato bellissimo, non me l'aspettavo. Dopo essersi ritrovati nella casa del GF VIP, Luca Onestini e Ivana Mrazova hanno riacceso le speranze dei fan di potersi fidanzare nuovamente una volta usciti. Durante il soggiorno della modella cecca in casa, lei e Luca hanno avuto modo di confrontarsi. Prima di andare via i due si sono baciati e questo ha riacceso le speranze di molti. Che continuano a chiedersi, Luca e Ivana torneranno insieme? GF VIP, Attilio Romita attacca Edoardo Donnamaria, io ho fatto fuori per una frase, lui bestemmia ed è ancora nella casa. GF VIP, Daniele Dal Moro sbotta contro Riana Marzoli, ho sprecato tempo. E proprio Onestini a tirar fuori l'argomento con Daniele Dal Moro. Il 29enne è pronto a ricominciare. Senza imporre regole o schemi, magari tanti non capiscono, non ci siamo mai chiesti niente. Tipo adesso stavamo bene e basta, non è che siamo stati lì a parlare. Quello che deve essere sarà. Deve essere fluida la cosa. Se c'è la voglia di stare insieme si può riprovare. Infatti io mi sono meravigliato, non mi è mai capitato di rivedere una persona con cui sono stato così. Sembrava non fosse passata neanche una settimana. Il rapporto tra Luca Onestini e Ivana Mrazova è iniziato proprio al grande fratello VIP. Nell'edizione del 2017, che ha visto Luca arrivare al secondo posto e Ivana al terzo dopo il vincitore Daniele Bossari. Sempre a Daniele Dal Moro l'extronista ha poi confidato, era un anno e mezzo che non stavamo un minimo insieme. Per me è stato bellissimo, mi hanno fatto un regalo enorme. L'importante è il risultato. Alla fine siamo stati benissimo, non me l'aspettavo di stare così con lei, forse neanche lei così con me. Questa è la cosa buona che mi porto a casa, poi succeda quello che succeda. Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono amati dal 2017 al 2020, convivendo a Milano. La rottura è avvenuta in piena pandemia da Covid-19. Oltre ai dissapori tra i due. In quei mesi Ivana ha avuto dei problemi familiari e Luca non è riuscito a starle accanto come avrebbe voluto. L'Amrazova, che nel 2012 è stata valletta al Festival di Sanremo, ha confessato che fino a poco tempo fa riteneva Onestini l'uomo della sua vita. Tra litigi e incomprensioni, però, i due si sono allontanati e per diverso tempo hanno interrotto ogni tipo di rapporto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.